Il cammino di Pellegrino Poi c'è stata la debacle di Verona Dove la squadra non è mai entrata in campo Dove si sono sbagliate anche tante scelte Come quella di Monzon sui turbe E poi però ci sono state le tre vittorie consecutive Roma sicuramente qua è venuta un po' per abbronzarsi Perché non poteva più vincere Però il Catania ha avuto carattere nel battere per 4-1 La Roma La partita Bologna-Catania Qui non sono un po' d'accordo Mi permetta Giovanni Zappalà Secondo me è una partita lì che si gioca sul filo dei nervi Il Catania l'ha voluta vincere Ha messo anche in grande difficoltà il Bologna Perché poteva anche accontentarsi del pareggio Invece ha voluto vincerla Perché il Bologna col pareggio ancora rimaneva a galla Per la lotta Invece li ha voluti affossare Perché ha voluto legittimare la propria forza E poi oggi 2-1 È una partita secondo me che ha poco senso Però il Catania l'ha voluta vincere Però l'ha vinta Quindi Pellegrino 4 vittorie 0 pareggi 2 sconfitte 10 reti fatte 9 subite Subite 12 punti In 6 partite Medie di 2 punti a partita Qualcosa di straordinario in questo finale Anche se nel finale di stagione avviene tutto Però lui ha dato un'identità secondo me E ha toccato alcune corde Forse dei confermati che poi andremo a vedere Perché c'è un gruppo che vuole essere confermato E altri vogliono essere mandati via Diciamo così Allora abbiamo tanti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti